Music Day! Music Day! Anche a Modica, provincia di Ragusa, dopo delle giornate di casting estenuanti, abbiamo deciso di dare una grandissima festa. Non perdetevela! Ciao, mi chiamo Emanuele, ho fatto il provino ad Albino, in provincia di Bergamo, e faccio lo spettacolo qui. Lo spettacolo inizia alle otto e mezzo, e sto aggiustando qualche cosa. C'è altre due, Amelia e Nicoletta. Dritta per dritta. E fanno un pochettino emozionato. Buona serata, cominciamo fra pochissimo. Chiamiamo la prossima candidata. Sto parlando di Elena Bonanno, che ora ci raggiunge sul palco e ci canterà. E giurati a sentire, prego. A un passo dal possibile A un passo dal possibile Ho fatto due sti provini, però l'emozione, secondo me, c'è sempre un po'. Il momento più brutto, diciamo, è stato quando ho fatto la coreografia. Ciao, mi chiamo Ignazio Oggi sono qua per fare il provino Quando siamo partiti ero molto allegro Quando siamo insegnati la coreografia ero molto, mi sentivo un pochino in ansia, emozionato. Poi è andato bene, comunque. Va bene, vi saluto, ciao. Ciao a tutti, io sono Benedetta. Diciamo che del canto sono stata abbastanza soddisfatta, se non dire del tutto. Del ballo un po' di meno perché a volte mi perdevo. Mi hanno detto appena che abbiamo passato la prima selezione E quindi sono contentissima Almeno la prima è già un buon passo Non dico che siamo all'obiettivo, però Ciao, 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 ciao Un applauso per la prossima candidata Sulla fiducia, naturalmente Che ballerà per noi Sto parlando di Marta Bruni Prego Vengo da Scigli E da sette anni che ballo E facendo dinastica artistica Poi mi è venuta questa passione Un applauso, un applauso Notte, diverse estate Feste, improvvisate What are you waiting for? Nobody's gonna show you how Why wait for someone else to do what you can do right now Music Day Music Day